Davvero un partitone quello tra Petrizi e Procatanzaro. 1 a 1 comunque il risultato ma si caratterizza per una nota. I gol arrivano praticamente alla fine del giro della lancetta del primo tempo, il rigore della Procatanzaro e poi c'è anche il gol di Girillo a fine novantesimo praticamente perché eravamo nel recupero. Ma è stata una gara molto vibrante, molto nervosa ma noi ve la raccontiamo proprio con il gol che arriva sul rigore al minuto 44 quando a terra va a finire proprio Papaleo. Il giocatore praticamente finisce perché la corsa a terra, perché è ostacolato da dietro, c'è il fallo da dietro del difensore, dal dischetto si presenta Pironani e fa gol. Ma noi ci raccontiamo gli umori dello spogliatoio del Petrizi attraverso le parole del presidente Giuseppe Mirarchi. Io ritengo che sia pienamente meritato perché il rigore che ha dato loro al 46 del primo tempo era molto dubbio ma ciò nonostante noi abbiamo giocato con modeste contro una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e abbiamo avuto più occasioni da gol noi che loro. Queste sono i dati di fatto. Il nostro portiere non è stato impegnato una sola volta. Il discorso vero e reale della partita. Sono stati due episodi che hanno determinato la partita. Ecco, se Baricentro un pochino in avanti sicuramente il Petrizi poteva fare meglio. Sì, ma noi abbiamo sbagliato un gollo nettissimo con Castanò, solo davanti al portiere quel pallonetto che voi ricorderete senza altro. E poi ha fatto due interventi in media da grande portiere qual è. Noi abbiamo avuto più occasioni da loro, questo è un dato di fatto. E considerato che noi abbiamo una squadra di giovani che ci dobbiamo salvare ritengo che sia più che giusto il pareggio. Più che giusto. Anzi, ci sta anche un po' stretto perché loro hanno avuto un predominio territoriale ma non hanno mai inciso come gli uomini che hanno tipo Pironaci e Papaleo dovrebbero fare. Petrizi che ha avuto più di un problema nel reagire, ha cercato, ha osato ma non ce l'ha fatta a pareggiare i conti. Poi il gol che arriva praticamente allo scadere della partita. Siamo oltre il novantesimo. C'è una punizione che Girillo si appresta a calciare. Un bel tiro che praticamente fulmina il portiere. Madia, sino a questo momento davvero bene come prestazione. Noi sentiamo il tecnico Barberio avvicinato ai nostri microfoni. Ma questo lo dice lei, mi fa piacere perché avrà visto la partita nella maniera corretta per come l'ho vista io. Però io non concepisco, a parte il fatto che noi dovevamo fare il secondo e chiudere la gara, io non concepisco l'atteggiamento dell'arbitro. Cioè venire a giocare qui a Petrezzi è forse l'ambiente più tranquillo dove si può giocare a calcio. Che motivo c'era di cambiare atteggiamento nel secondo tempo? Ha fatto un arbitraggio a senso unico nel secondo tempo. Senza che ce ne fosse necessità perché qui nessuno gli dice nulla. Qua si gioca a calcio perché io conosco il presidente da 30 anni, conosco l'allenatore da una vita, è stato anche un mio allievo. I giocatori li conosco tutti, giocano a calcio e basta. Che motivo c'è di cambiare atteggiamento? Come se qualcuno lo avesse chissà che cosa minacciato, ho puntato una pistola. Parliamo invece di calcio, visto che lei è una professionista navigato, perché la Proca Tanzaro non è riuscita a mettere il colpo del K.O.? Perché ci manca il colpo del K.O. Noi abbiamo preso due giocatori quest'anno che dovevano farci la differenza in avanti e purtroppo ancora non sono quelli che conosciamo tutti. Hanno avuto dei problemi, Papaleo viene da un incidente molto grave con un'operazione al menisco eseguita addirittura a luglio, 27 luglio, quindi è ancora in fase di recupero. Pieronacci ha dei problemi fisici che non lo mettono in condizione di essere neanche al 50% del giovatore che era l'anno scorso e da qui le conseguenze, non si fa gol e alla fine basta un non nulla e come si vede si pareggiano le gare. Sono punti che si buttano all'aria. Stranamente al cronista della tribuna è piaciuto anche l'atteggiamento del vostro portiere di Madia, è stato bravo? No, ma Madia non si discute, è una garanzia là dietro. L'abbiamo preso perché in queste categorie avere il portiere è avere il 50% della squadra. Madia sappiamo tutti chi è. Quando arriva il pallone, lì in aria sappiamo che è una potenziale parata, è difficile che venga bucato. Oggi è successo proprio al 92esimo e la cosa ci infastidisce parecchio ma non ha nessuna colpa, ci mancheremo. Il Curinga le dice qualcosa, è lontano, è vicino, è da recuperare? Il Curinga era da recuperare oggi, dovevamo recuperargli i tre punti che erano molto importanti per il nostro cammino. Purtroppo è andata così e dobbiamo continuare e cercare di raggiungerli nel più breve tempo possibile. Non sono mancate ovviamente le contestazioni all'arbitro, come al solito Teleionio è il testimone scomodo o incomodo, come meglio pensate, o comodo per se vi può far piacere. Perché praticamente protestano anche davanti alla nostra telecamera per portare così il messaggio in Lega. Vedete? Grazie.